No matter how hard I try Uno dei motivi principali che mi ha spinto a fare questo video sta nel fatto che ancora troppa gente al giorno d'oggi non si sia resa conto del fatto che le nuove stelle del tennis mondiale in realtà non equivalgono a quelle di vent'anni fa e sarà e è impossibile essere a loro pari. Mi sto riferendo chiaramente all'implicito macro confronto che si usa a fare al giorno d'oggi tra la coppia Alcaraz Sinner e il trio Nadal, Djokovic e Federer. Nel 2024 ormai abituati fin troppo bene da quei tre là ci aspettiamo che ogni nuova giovane stella del tennis mondiale sia invincibile. Che non appena fa un risultatore non si fermi più e che continua a vincere a dominare in lungo e in largo per anni e anni senza un minimo calo. Non lo diciamo ma è ciò che sotto sotto la nostra mente si aspetta da Yannick Sinner e Carlos Alcaraz. Soprattutto dopo Wimbledon 2023 vedendo le prestazioni dello spagnolo io mai mi sarei potuto aspettare un minimo calo da uno capace di mettere in mostra un tennis così esplosivo, così perfetto, così completo, così preciso. In quel momento tutto era perfetto. Alcaraz era un giocatore all'apparenza troppo completo per poter perdere anche una sola partita. E ciò che è successo nei mesi a seguire poi è la dimostrazione che questo ragazzo di Mursia è sì un fenomeno ma anche un essere umano di nemmeno 21 anni con una mentalità e paradossalmente anche un fisico che sono un cantiere apertissimo ancora. E la stessa cosa è successa anche l'anno scorso al nostro Sinner se vi ricordate bene tra la terra battuta e la fine della stagione su Erba. Nonostante questi due ragazzi siano destinati a dominare le classifiche per i prossimi 10 anni è necessario fare una distinzione tra quelli che saranno numeri 1 e quelli che sono stati numeri 1. Giocatori come Djokovic, Nadal e Federer ci hanno fatto pensare che non esistano alti e bassi e che si possa mantenere e anzi migliorare il proprio livello per 15 anni e oltre. Ma non è così che vanno le cose normalmente ed è un qualcosa che noi spettatori di tennis di quest'epoca dobbiamo imparare ad accettare. Quei tre sono qualcosa a parte perché hanno rappresentato e rappresentano tuttora con Djokovic un dominio sportivo che non si era mai visto in nessun'altra disciplina. E beh sta a gente come Sinner Alcaraz cercare di essere all'altezza di tutto ciò e premesso che sarà decisamente complicato io credo che questi due andranno a migliorarsi a vicenda anno dopo anno e a vincere davvero tantissimi trofei vista anche la scarsa concorrenza che c'è al momento. Perché sì se nel tempo i big three hanno incontrato ostacoli pericolosissimi sulla loro strada quali per esempio Stan Wawrinka, Andy Murray o Dominic Thiem io non vedo come gli altri giocatori presenti in top 10 o in top 20 in questo momento possono andare anche solo a impensierire l'alto tesino e lo spagnolo. Infatti io tra loro due e tutti gli altri vedo un divario veramente veramente ampio in mezzo al quale però soltanto Danil Medvedev secondo me può considerarsi la pecora nera. L'unico che sulla superficie giusta nella giornata giusta può dare fastidio a quei due. E come giusto che sia Sinner e Alcaraz sono due giocatori che si danno sempre battaglia in ogni partita ma capita molto più frequentemente che mostrino i loro punti deboli contro altri avversari piuttosto che fra di loro. Basti vedere quanto male giocò Sinner su terra e su erba nel 2023 e come sta giocando Alcarazzi in questo momento storico. Sinner italiano è cresciuto su terra battuta ma è ben noto che prediliga superfici più rapide e questo può aver influito in partite come per esempio quella con Serundola al foro e quella con Altmaier sul Susanne Langlène a Parigi. Nelle quali gli sarebbe senz'altro piaciuto spingere senza la paura di vedere tornare la palla nella propria metà campo a ogni singolo tentativo di accelerazione. Ovviamente per questi due esempi bisogna dare merito ai due avversari però vuoi per la superficie, vuoi per l'effetto sorpresa che i due hanno generato era chiaro che qualcosa non funzionasse nella testa di Sinner. L'Alto Tesino infatti dopo queste partite rivelò che giocava con tanta pressione, che sentiva quasi un peso sulle proprie spalle che gli impediva di giocare serenamente. Dopo la seconda finale a Miami, infatti quella dell'anno scorso nel 2023, si percepì un aumento delle aspettative nei suoi confronti che forse al tempo non era ancora in grado di gestire. E questa cosa se l'è portata palesemente anche nei tornei che ha giocato successivamente dove poche volte è riuscito a vincere prima di Wimbledon. Un digiuno di vittorie convincenti che però ha portato Jannik a farsi le domande giuste e a pensare nei termini giusti. Io mi devo ricordare che gioco per divertirmi e che questo è ciò che mi piace fare. E queste dichiarazioni poi sono state tradotte in bei risultati e belle prestazioni nella seconda metà della stagione passata, lo abbiamo visto. E secondo me la partita che gli ha fatto capire di dover pensare in questi termini è stata quella con Djokovic a Wimbledon. Persa male dal punto di vista della tenuta mentale che era ancora troppo fragile per potersi imporre in partite di quel tipo con avversari di quel tipo. Inoltre paradossalmente la partita che ha dato anche una svolta, questa volta in negativo, all'andamento della stagione di Alcaraz è stata proprio quella con Djokovic a Wimbledon. Che però ha avuto un esito completamente diametralmente opposto a quella di Sinner. Quello fu un trionfo puro ragazzi ma fu anche l'ultimo momento in cui abbiamo visto Alcaraz giocare in quel modo lì. Lo spagnolo infatti da quella partita lì e soprattutto dopo la finale persa a Cincinnati si è mostrato molto più fragile soprattutto dal punto di vista tecnico. Un gioco quello di Carlitos assolutamente disordinato e caratterizzato da una continua incessante necessità di spingere per chiudere rapidamente il punto. Quasi a voler dimostrare che i punti li può comandare lui in ogni circostanza ma non funziona così purtroppo. Calata inoltre l'efficacia del servizio che seppur non potentissimo gli garantiva di aprirsi il campo per poi chiudere il punto con il dritto. Cosa che come è evidente se vedete le partite dello spagnolo non è più una cosa abituale ma un evento sempre più raro. È chiaro che tutti i difetti tecnici di Alcaraz stiano venendo fuori perché non ha più quella serenità che non lo fa andare nel panico. E come questa fase è cominciata e finita l'anno scorso per Sinner beh è cominciata per Alcaraz e quest'anno finirà per Alcaraz immagino. Ma è importantissimo secondo me dare il tempo a questi ragazzi di migliorarsi sotto tutti i punti di vista e per maturare che è un discorso che va ben oltre le mere questioni di campo. E vabbè ragazzi è facile ora specialmente da italiani dire che Sinner è meglio di Alcaraz, che Sinner vincerà più Slam di Alcaraz. Ma per me in uguali condizioni mentali e fisiche la situazione potrebbe benissimo ribaltarsi proprio come si è ribaltata da agosto 2023 in favore del nostro giocatore. La morale di questo video ragazzi è diamo tempo a questi due giocatori, questi due giocatoroni perché sono davvero giovani e come ho sempre detto hanno bisogno di tempo per migliorarsi. Sinner per essere a questo livello qua ha dovuto passare mesi in cui tutti quanti gli davano contro, gli dicevano che era un predestinato fantoccio quindi diamogli tempo. Comunque se questo video vi è piaciuto ragazzi io vi invito come al solito a lasciare like, commentate anche qui sotto per farmi sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto oppure se vi ha fatto proprio cagà. Fatemi sapere inoltre secondo voi chi vincerà più Slam alla fine della loro carriera tra Sinner e Alcaraz. Sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate e niente ragazzi noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video e niente ciao.